Ecco farei una brevissima premessa dicendo che innanzitutto come azienda, come gruppo abbiamo ormai acquisito una consapevolezza piena che una società come la nostra non può avere come unico obiettivo quello della crescita economica, della profittabilità. Dobbiamo avere ed assumere delle responsabilità più ampie nei confronti della nostra società, delle collettività presso le quali operiamo. Per questo abbiamo avviato queste iniziative di Public Policy Center a Bruxelles e qui a Roma in Italia. L'obiettivo è quello proprio di contribuire al dibattito sui temi principali che sono al centro del dibattito della nostra vita quotidiana, politica e sociale, su temi che sono i temi fondamentali, quelli della sostenibilità, quelli della sicurezza informatica, quella delle nuove politiche sociali che sono fondamentali per un miglioramento della qualità della vita dei nostri cittadini e vogliamo contribuire dando delle nostre proposte, quindi come nel nostro DNA vogliamo dare delle proposte concrete, tangibili per dare un supporto concreto e tangibile al miglioramento della qualità delle nostre società.